Alessandro Gentili a 83 centesimi dal termine con questo canestro regala alle A7 la semifinale Scudetto 62 a 61 in gara 3 di quarti a Trento e Tris servito per gli uomini di Repescia esce a testa altissima dalla stagione la Dolomiti Energia molto positivo l'approccio dei padroni di casa che salgono sul più 7 grazie ai punti di Pascolo reazione degli ospiti che con Gentile rientrano a meno 1 al dodicesimo sorpasso Olimpia al diciottesimo l'Aquila cresce in difesa Milano perde diversi palloni 11 al ventesimo e scivola a meno 7 37 a 32 all'intervallo nella ripresa difese meglio degli attacchi Trento sparacchia da oltre l'arco le A7 ne approfitta e con Simone McLean piazza un break di 12 a 2 in 6 minuti che vale il più 5 Cummings non ci sta e con 7 punti consecutivi impatta al ventinovesimo in avvio di quarta frazione Lockett prova a far scappare i padroni di casa più 8 immediata la risposta di Matchman e Gentile ed è ancora parità al trentaseiesimo rush finale Satton dalla lunetta porta l'Aquila sul più 2 a 36 secondi dal termine Gentile pareggia sempre a gioco fermo Poeta ridà una lunghezza di attivo ai suoi decide Alessandro Gentile con questa magia 21 su 40 da 2 8 su 10 ai liberi e più 14 a rimbalzo per i viaggianti contro il 14 su 31 e 15 su 21 degli avversari 16 punti per Gentile e Simon da una parte 14 e si fa li subiti per Wright dall'altra